Il benessere e la qualità della vita per i cittadini teramani passano soprattutto attraverso la famiglia e le relazioni sociali e quanto emerge da uno studio commissionato dall'ASL di Teramo e condotto dai ricercatori dell'Università di Chieti. Al secondo posto per chi vive in provincia di Teramo c'è la salute mentre il fattore economico si posiziona al terzo posto. La ricerca vuole dimostrare che cosa? Che gli aspetti della vita materiale che sono riconducibili al reddito, quindi al benessere economico, sono solo una delle componenti. Quindi partiamo da questa considerazione e proviamo a dimostrare che effettivamente nella percezione gli individui danno molto peso alla famiglia. Che è al primo posto. Che è al primo posto. Famiglia, relazioni sociali e la salute. Quindi quello che noi vogliamo dimostrare con questo studio è che il reddito e il lavoro sono importanti ma occorrono politiche di sensibilizzazione a grandi temi sociali come la salute e i beni relazionali. Sui beni materiali Teramo è al terzo posto in Italia. Teramo è la terza provincia come performance, cioè quella che riesce a migliorare la sua posizione quando passiamo dai beni materiali e beni immateriali. Quindi vuol dire che è una di quelle province che risente maggiormente delle difficoltà di misurare il benessere complessivo utilizzando solo gli indicatori monetari. Sono dati che vi hanno stupiti? Allora in parte sì, in parte no. Nel senso che confermiamo il risultato delle relazioni sociali come principale driver, mentre emerge con forza il ruolo della salute che prima della pandemia in queste indagini non appariva. Ha inciso dunque la pandemia? Allora non possiamo dimostrarlo in maniera scientifica, avremo bisogno di studi approfonditi, però quello che possiamo notare è che i più giovani oggi danno molto valore alla salute, cosa che prima non avveniva.